Pierpaolo Bucalo di Adodici Lab qui al Soccer Ex di Manchester. Pierpaolo Bucalo, di cosa si tratta questo Adodici Lab? Buonasera innanzitutto. Adodici Lab è una società di consulenza nata l'anno scorso che si occupa di strategie marketing, in particolare è un'area di expertise e tutta la parte di strategie di co-marketing e partnership. Quindi cerchiamo di sviluppare sinergie fra aziende in settori merceologici diversi per generare sinergie e valorizzare sia la loro base clienti, che spesso non è valorizzata abbastanza, e anche valorizzare i canali distributivi delle principali aziende. Quindi facendo sinergie fra aziende, sia fra business tradizionali che in collegamento con lo sport. Qual è la tua visione del calcio? La visione del calcio è una domanda un po' amplia, da tifoso potrei dire tante cose. In realtà il calcio come business, a mio avviso, molte delle opportunità non sono state ancora accolte a pieno e l'Italia è ancora un po' indietro rispetto ad altri mercati. In particolare, dove vedo opportunità di sviluppo, è legata al modo in cui le società attraggono nuovi sponsor. Fino a ieri parlavamo di sponsor, oggi parliamo di partner, quindi non soltanto aziende che danno soldi alle società a fronte di visibilità, ma si attendono di più, si attendono di avere dei canali privilegiati per parlare con i tifosi delle società. Ma perché ciò si realizzi? C'è bisogno di un cambio di cultura, di buona parte dei club, a conoscere i propri tifosi, non soltanto collettivamente ma individualmente, email, cellulare, preferenze, gusti eccetera, e sapere con quali canali ingaggiarli per garantire una maggior soddisfazione ai propri tifosi e maggior ritorno commerciale agli sponsor, che quindi da sponsor diventano a tutti gli effetti partner dell'azienda.